Fa caldo Oggi è il 5 agosto 2013 e tra poco io e la mia compagnia la Overworld faremo lo spettacolo ovvero l'11 di agosto, manca poco, mancano 6 giorni e sono tipo 40 gradi e adesso che sono le 2 e mezza del pomeriggio, saranno 45, dalle 3 alle 6, dopo 6 mesi di preparazione cominciamo a fare le prime prove, quindi rientriamo sempre nella norma, a fare le prove o tutto quello che serve lo facciamo sempre quando manca pochissimo, perché ormai è proprio tradizione, non ci se la fa prima, è impossibile, e quindi adesso che manca poco ci mettiamo a fare le prove giustamente, e vi accompagnerò in questo viaggio durante le prove di quello che sarà il nostro show, l'Overworld show, e voi vi vedete con me e mi seguirete, e questo sarà il viaggio che faremo prima dello spettacolo vero e proprio. sto morendo, mi sento disidratetto, non ce la faccio, è caldissimo, e vabbè, noi ci vediamo dopo, tanti saluti e grazie, ci vediamo dopo quando partiamo a fare le prove, ciao! ottimo, ora partiamo con la macchina e andiamo a fare queste fantastiche prove computer maia, molto trendy, cool, un sacco eccoci siamo pronti a partire, quindi apprestiamoci a partire per queste lunghe prove dolorose sofferte e saranno tutta una tirata dalle 3 alle 6 del pomeriggio, quindi eccoci siamo pronti a partire, così, non ci vediamo, siamo pronti a partire, per me, per te? la città? sì, per te? sì, per te? sì, per te? ok, per te? ok, per te? ciao! Ciao! Eh, vabbè! Mi è Diego! Vabbè... No, questo, diciamo che è... la ripresa delle prove, il backstage dell'ospedale Tutto inizia da qui Tutto inizia da qui Il deserto assoluto delle tre del pomeriggio a Borghetto Steno! Do cazzo ha? Do cazzo ha? Ah, vabbè, perché è gelato? Eccolo! Eccolo! Ciao Stef! Ciao Stef! Dan 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 Au! Sembra molto quelle scene Alla... Alla... Sembrava di capo io su quella roba su Facebook per camminare... No, vabbè Dovrebbe essere lui! Zoomata! No, non è lui Sì! Sì! È lui! È lui! È lui col fratello! Ecco freddo! Aperta al pubblico! Sì, sì, proprio che c'è il pubblico! Sì! E metti caso! Noi non fossimo pronti! Metti caso! Ci sono! Ci sono! Ci sono! Ci sono! Perché lì ci sono! Ah, ma... Non ci sei! Mamma mia! Ci sono! Anzi, c'è una sera da libra! 11 agosto... 2013 Ma ti ce l'hai? 13 Ma ti ce l'hai? 13 13 Dunque 14 Fino a qua ci siamo Mettiamoci un bel punto Metti la schermatina 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 La più bella del mondo E c'è dispiace per l'altri Chi non c'hanno i denti Chi non c'ha i capelli Chi non c'hanno il cane Per andare a passeggiare De una panchina C'è un serbo sta ore d'ore A fissa il bordo A dormire un poco A chiacchierare su quel che faceva Sei una coppia più bella del mondo Oh Ecco ecco Sto a morir Sto a morir Sto a morir Sto a manco Ecco Sto a... Sto... Sto a manco Ecco c'è Il tipo lì Lo fa uno dei due Ma che non è il beddy? Ma che stai smerti? Oggi come dici? Prima di qua stavo dormivo in pezzo no? Cazzo, ogni volta che dorme fa qualche storia. Esatto, perché io non dormo mai. Ah, ecco. E' raro le volte che dormo, soprattutto al pranzo. Dormi 10 minuti, però lo facciamo. Però in questi 10 minuti è bastato. E' bastato. E' l'ispirazione. E in pratica pensavo, mai potremmo fare il più alto, ci mettiamo indietro. Con il proiettore. E c'è uno che parla? Te ricordi che l'inizio è attenti al lupo? No. Sì, dai. Ah, sì, 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 sì. Ed ecco, l'uomo, l'uomo, l'uomo in fogacina. Fax. Reddice d'Arcevia, ho dormito 7 ore in una settimana. Dove è finito il pizzetto? Il pizzetto? Eh. Il pizzetto. Porca vacca. No, no. No, vabbè, perché dovevo fare qualche cambiamento. Ah, vabbè, giusto. Ma era da un bel pezzo. E' bene cambiare. Ci spu' andare? Ci spu' andare? No. Eh, vabbè, ma dopo non ci si muoveci più. C'è pure il video mentre me lo tagli. Uuuuh. 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 No, no. No, no. Ho sbagliato, ho sbagliato. Senti, qui è allegra. Qui diventa tetra. La senti? Dove? No, la scala Lidia, non diventa le tre. Scorciata? Tranquilamente. Lidia, sentiti. Lidia, sentiti. Dichiaro a Marcangeli. Apparto. Poi questa roba. Pardo! Più forte? Porto. Pasta. Ma allora... Tochiamo al Pax. Perché? No, dai. Poi, allora entriamo io e Chiara. E nonna Benna fa mezzo perso. Dopo la nonna va via. Esatto. Vabbè io vado a cercare l'altra parte. Ciao, Ben, diciamo. Scendo. Ciao, Canali, ciao, Canali. Dai, Cai, ci sta. Tocca trovare un modo per far arrivare Steno. Steno lo fa... E come lo fanno arrivare a Steno? 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 Quindi... E... Libero. Io faccio. Adesso, un attimo... Apriamo per favore... Perciò il collegamento... Con Steno. Il nostro tecnico. Grazie Steno. Se vi piacere... Steno. 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 Oh. Ecco, ecco. Se te lo mettiamo gli occhieri a soli c'è una scuba. In realtà lui sta dormire, però capito. Perché secondo te tengo gli occhieri a soli? Ecco, appunto. No. 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 La buca è sveglio, invece non mi... Ahah. Che c***o. Bravo, sai quando c'è Lu... Che si attraverso da quello importante... C'è sullo schermo... Quello dietro lo schermo... Fammi che Steno compare, quindi vincente al proiettore. Ahio. Ahio. Zitti. Andai, andai. A modo mio. Iniziate via. dai glielo attacco ti devo finire di cantare devi suonare se sei io che sarà mai per così poco devo sentire io che sarà mai ma io potrei dire non va bene, non riusciamo ad andare avanti troppe pausa nico, dopo cosa c'era? quindi come funziona questa cosa? cosa? la telecamera così? ah se io prendo qui e metto a fuoco giusto? no aspetta si chiude la prima giornata di prove per lo spettacolo abbiamo fatto un sacco ero oggi siamo sempre lì abbiamo fatto un po' di cose e col caldo boia ci vediamo domani alla prossima giornata di presto ciao 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 ciao